E' iniziato il conto alla rovescia per la gara inaugurale del circuito ETU 2014 di Cross Triathlon. La prima competizione in programma di un circuito di quattro sarà ospitata nella giornata del 1 giugno a Orosei, nell'oasi faunistica di Biderosa. Una manifestazione organizzata dall'Island Group di Nuoro, che sarà valida anche per l'assegnazione del titolo europeo 2014 di Cross Triathlon European Championship. Per l'ottavo anno consecutivo il Golfo di Orosei ospiterà gli Iron Man provenienti da tutto il mondo, che prima con il circuito X-Terra e ora col progetto T-Natura provano a darsi battaglia affrontando tre discipline massacranti. Un chilometro e mezzo di nuoto, 30 chilometri di mountain bike e 10 chilometri di corsa. Gli organizzatori hanno fatto il pieno di iscrizioni, esaurendo tutti i posti per la gara di bici, battuto il record di iscritti con 53 atleti eliti, under 23 e junior, di cui 37 uomini e 16 donne, provenienti da 16 nazioni diverse. Nutrito il lotto di campioni mondiali ed europei di triathlon off-road. Per l'Italia ci saranno Alessio Pico, Leonardo Ballerini, l'anno scorso secondo sul podio, e Mattia De Paoli, campione italiano di specialità in carica. Tra gli stranieri figurano tra i favoriti Jan Kubicek, della Repubblica Ceca, i belgi Jim Tissi e Chris Kodens, l'austriaco Michael Schimoneuk e lo slovacco Thomas Jurkovic, sesto ai mondiali. In campo femminile spiega la campionessa del mondo Elena Arbenova, della Repubblica Ceca, e la campionessa europea Katrin Müller, tedesca, seconda l'anno scorso a Rosé dietro la Svizzera Renata Bucher. L'elvetica spera di confermarsi anche nel 2014. Tra le azzurre Monica Cibin può arrivare in zona a podio.